Ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti alla panna. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e mezza circa. Gli ingredienti sono panna per dolci, farina, farina manitoba, lievito per dolci, vanillina, sale, uova, burro, margarina, zucchero e fecola di patate. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettedimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo lo zucchero all'interno del boccale e lo andiamo a polverizzare 10 secondi a velocità 10. Prendiamo un po' sul fondo. Adesso aggiungiamo il burro, la margarina, l'uovo e la panna. e andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto a velocità 5. Adesso andiamo ad aggiungere la farina, la farina manitoba, il lievito, l'aroma di vaniglia, l'essenza di vaniglia, il pizzico di sale, e la fecola di patate. Andiamo ad impastare il tutto per tre minuti a velocità spiga. Adesso aggiungiamo un altro po' di farina e facciamo impastare per un altro minuto sempre a velocità spiga. Il nostro impasto è pronto, andiamolo a trasferire in una pellicola trasparente. Dopo aver avvolto il nostro impasto nella pellicola, andiamolo a posizionare in frigo per almeno un'ora. L'impasto è pronto, adesso andiamo a stenderlo e andiamo a mettere un po' di farina sul nostro pianale. Andiamo a stendere l'impasto. Dopo aver creato uno strato di circa mezzo centimetro andiamo a formare i nostri biscotti. e andiamo a posizionarli sulla teglia nel quale avremmo messo la carta da forno. e continuiamo così senza terminare l'impasto. I nostri biscotti alla panna sono quasi pronti, andiamo a infornarli a 180 gradi per 15 minuti. Biscotti alla panna, grazie e alla prossima ricetta. Biscotti alla panna, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.